Sono stati invitati a questo congresso, un congresso di un partito importante come il PDL, in una fase interessante per noi, anche perché lo sappiamo, in questo momento storico, PD e PDL condividono una responsabilità importante nel sostegno a Monti. Credo che in Polesni rimarranno come rimangono tante distinzioni, ma il messaggio che ho tentato di lanciare anche a questa platea è che su alcune cose fondamentali, su alcuni assi di sviluppo per il Polesni, ci sia la possibilità di aprire un confronto serio tra le parti politiche che in questi mesi credo sia mancato, nonostante gli approcci identitivi del mio partito, di rilanciare su alcuni temi di fondo che arrivano alla provincia.